ciao ragazzi forse non sapete che io ho avviato un canale telegram dove su avviando dei sondaggi e dove anche questa settimana hai scelto tu che cosa deve fare il coach è successo questo quindi guardate questo sondaggio visto ok questo appunto è un sondaggio dove avete scelto sei esercizi di isolamento muscolare e per la maggiore come avete visto è andato quello per gli addominali perfetto il coach farà questo quindi io farò oggi sei esercizi di isolamento muscolare se vuoi conoscere ancora qualche altro dettaglio su questa tipologia di metodo mi iscrivi sotto e noi ne parliamo quindi cari amici di telegram voi avete scelto e questi sono gli esercizi io ti dico grazie di aver guardato questo video iscriviti al canale o lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi prima di iniziare una cosa importante voglio sottolinearti che gli esercizi di isolamento non esistono nel senso che te la faccio breve questa perché è un discorso un po più complesso nel senso che per far intervenire in questo caso l'addome dobbiamo utilizzare anche altre fasce muscolari o articolari questa è la sintesi comunque noi ci proviamo proviamo a concentrarci oggi sul bandone quindi occhio occhio ciao 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 Grazie per la visione!